Musica Genesimo arresto per droga nella Marsica, in manette due cittadini marocchini. Musica Lunedì si torna a scuola, sono 174.882 di allunni. Riapre il centro sportivo di Cesolino, al complesso è stato acquistato dall'imprenditore Domenico Del Fosco. Musica Scalcio di appuntamenti della Domenica, Serie D, Vastesa Vezzano, Eccellenza, Paterno Montesilvano, Angolana Capistrello. Musica Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Apriamo con la cronaca, il personale della Polizia di Stato ha concluso una importante operazione antidroga che ha portato l'arresto di due cittadini di nazionalità marocchina di 36 e 28 anni con pregiudizi di polizia. I due uomini sono stati tratti in arresto dagli uomini del commissariato di Avezzano nella flagranza del reato di detenzione a fine dispaccio di sostanza stupefacente a seguito dei programmati servizi volti alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella Marsica. L'attività di indagine ha permesso quindi di scoprire uno strano andere i vieni dei due cittadini extracomunitari tra gli arbusti di un campo incolto posto alle porte di Celano che si erano appena recati per disotterrare la droga per poterla successivamente vendere ai clienti. Al momento del controllo sul veicolo dei due è stato rinvenuto l'involucro contenente della sostanza stupefacente del tipo cocaina unitamente all'altra abilmente nascosta nel campo per un peso complessivo di circa 150 grammi suddivisa in dosi già pronte per i consumatori. Nel corso delle perquisizioni domiciliare eseguite nell'abitazione a Celano ed Avezzano sono stati trovati 8 mila euro di denaro contante, materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Guido Cocco, i due arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Avezzano. E sempre la polizia è intervenuta in via Francesco Savini all'Aquila dove era in corso una litra animata tra cittadini extracomunitari scaturita per motivi ancora da accertare. Al termine dell'intervento è stato tratto in arresto un 28enne nigeriano con diversi precedenti penali per i reati di detenzioni e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare la pattuglia prontamente intervenuta sul posto dopo aver identificato tutti i presenti e sentiti i testimoni è venuta a conoscenza che all'interno dell'appartamento dove era scaturita la lite e in uso al giovane si stava svolgendo un'attività illecita legata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti pertanto hanno deciso di entrare nell'abitazione per effettuare un controllo e dare riscontro alla notizia presa. Ma il giovane nigeriano da subito ha iniziato a manifestare un atteggiamento stile poco collaborativo cercando di impedire agli agenti di effettuare l'accertamento. Una volta entrati i militari hanno rinvenuto, nascosti in cuscire, 214 grammi di marijuana debitamente separate in autoconfezioni e a volte nel cellofan, già pronte per essere smistate. Una bilancia di precisione è 146 grammi di semi e 500 grammi di polvere ancora da analizzare. Tutta la sostanza è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono 174.882 gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che l'11 settembre, data ufficiale stabilita dal calendario regionale, torneranno in aula. Molte istituzioni scolastiche del territorio regionale, in base all'autonomia, hanno stabilito di anticipare di qualche giorno la ripresa delle lezioni. Sono 51.952 gli studenti della provincia di Chieti, 45.795 nella provincia di Pescara, 40.244 nella provincia di Teramo e 36.891 gli studenti della provincia aquilana. In base al piano di dimensionamento 2017-2018 rispetto alle 197 istituzioni scolastiche del territorio regionale, 13 sono risultate sottodimensionate per il corrente anno scolastico. Cose ripartite? 4 a Chieti, 2 all'Aquila, 2 a Pescara, 5 a Teramo. Sono terminate le assunzioni del personale docente, educativo e alta, con l'immissione ruolo, di 686 docenti nelle scuole di ogni ordine grado. Per garantire la regolare ripresa delle attività didattiche, sono per essere concluse le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisorie del personale docente, nonché quelle di nomina dei docenti del personale ATA a tempo determinato. E in vista della riapertura delle scuole, l'amministrazione comunale di Avezzano, taglia buoni pasto per la mensa scolastica a 1.500 famiglie. Con una delibera di giunta, la nuova amministrazione del sindaco Gabriele De Angelis ha tagliato 50 centesimi la spesa per il buono pasto. Nell'arco dell'anno scolastico la riduzione totale per un bambino è di circa 100 euro. E' questo un primo segnale forte che insieme alla mia amministrazione voglio dare alle famiglie di questa città il commento del primo cittadino De Angelis, con l'assessore al bilancio Felicia Mazzocchi. Abbiamo scavato nelle risorse aggiuntive delle casse comunali e abbiamo scelto di destinare un fondo ai genitori che hanno i figli nell'età della scuola. L'assessore ha proposto la riduzione frontale di 50 centesimi e naturalmente ho accettato con entusiasmo. Abbiamo elaborato una variazione di bilancio di 59 mila euro. Il numero dei passi interessati dal taglio sono 117 mila 468. Beneficio osservativo per l'anno scolastico 2017-2018. Teruto conto dell'attuale stato di crisi economica generale, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, la nuova amministrazione comunale ha deciso di elevare a 5 mila 18 a 6 mila euro. La soglia ISEE per la concessione dell'esonero dal pagamento delle tariffe dei servizi di rifezione scolastica e di trasporto scolastico. Il metodo per il pagamento dei buoni mensa è riconfermato quello dello scorso anno. L'ASB gestire il servizio, così come stabilito dal bando, assegnato circa due anni fa. I bambini e quali è già stato consegnato il codice PAN, lo manterranno anche per l'anno scolastico in corso. I nuovi piccoli studenti che entrano all'asilo, alla primaria e che usufruiscono per la prima volta della mensa, riceveranno dalla mestre una lettera in cui leggeranno tutte le modalità per la fruizione del servizio. E li stiamo in qualche modo in argomento. Un'interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Ministra dell'Istruzione per sapere cosa intende fare, per dare una piena attuazione a quanto prevede la legge sul terremoto in materia di sicurezza delle scuole, per assicurare la sicurezza delle scuole abruzzesi italiane, è stata presentata dal deputato Gianni Melilla. L'80% delle scuole abruzzesi, scrive Melilla, non è in norma dal punto di vista della sicurezza, nonostante gran parte della regione sia classificata nelle zone sismiche 1 e 2. Esiste un obbligo di verificare la vulnerabilità antisismica delle scuole al fine di garantire la massima sicurezza per studenti e lavoratori della scuola, come evidenziato in varie altre interrogazioni sullo stesso tema. E sottolinea il deputato abruzzese, non può essere tutto scaricato sulle spalle degli amministratori locali che si assumono pesanti responsabilità amministrative e penali. Melilla sottolinea poi che è necessaria la massima trasparenza anche sui certificati di vulnerabilità sismiche delle scuole a chi ne farà richiesta. Oltre mezzo secolo di vita nel corso del quale è stato frequentato da amidiadi a di ragazzi, il centro sportivo di Cesolino ha chiuso esattamente un anno fa per tornare a nuova vita. Il complesso è stato acquistato dall'imprenditore marsicano Domenico Del Fosco che si è assunto l'onere di renderlo al passo con i tempi, costruendo il campo da calcio a undecene, erba sintetica, così come quelli di calcio a otto e di calcio a cinque, che saranno coperti in modo tale da poter essere fruibili anche nella stagione invernale. Ma Cesolino proporrà anche altre novità, perché tra le altre cose ha previsto un campo per la palacanestra, una palestra più ampia e funzionale, di quella vecchia che si era demolita. Il collega Plinio Olivotto ha incontrato l'artefice di quello che nel giro di un anno o poco più tornerà ad essere un punto di riferimento per moltissimi giovani. Ascoltiamolo allora l'intervista con l'imprenditore Domenico Del Fosco. Un anno fa su questo portone c'era un cartello diverso, c'era scritto chiuso per ferie, adesso c'è scritto chiuso per ristrutturazione. Un anno fa si parlava di Cesolino in termini assolutamente negativi, poi qualcosa è cambiato, qualcosa per merito di questo signore, Domenico Del Fosco. È lui che ha acquistato dal Don Orione questo complesso per farne che cosa? O meglio, per rifarne che cosa? Per ristrutturare la struttura, renderlo di nuovo fruibile a noi avezzanesi, sotto l'aspetto sportivo, giocoso come era sempre prima, come è sempre stato di fatto, assolutamente. Però adesso? Ristrutturare, rimettere la norma, ritrovare le nuove autorizzazioni, le nuove autorizzazioni all'Asla, al Comune, tutto quello di cui è necessario, che di fatto da quando è stato chiuso non ci sono più di fatto. Allora, un anno fa è stato chiuso, la gente ha pensato a male, questo era un punto di ritrovo per, è stato per tanti giovani, per tanti ragazzi, ma anche per tante persone anziane. Tornerà ad essere quello di prima, ma più bella? Assolutamente sì, disponibile per tutti, aperto a tutti, con tutti, speriamo con la partecipazione di tutta la cittadinanza. L'obiettivo è quello di riportare il Cesolino ai fasti di un tempo, di come noi tutti, insieme e in varie fasi della nostra età, ne abbiamo usufruito e vorremmo seguitarlo a fare, assolutamente. Allora, qui praticamente adesso è tutto vecchio, c'è un campo di calcio a 11 in terra battuta, palestra vecchia, spogliatoi vecchi. Allora, voi siete adesso nella fase progettuale, i tempi? Dipendono da tanti fattori, non solo da me. Ovviamente dipendono da un fattore autorizzativo. Adesso siamo nella condizione che stiamo presentando e facendo tutti i nuovi disegni confacenti e compatibili con quelle che sono le caratteristiche che il Comune ci chiede, evidentemente, quindi gli enti ci chiedono. Appena una volta realizzati i disegni definitivi, presenteremo al Comune e quindi alle autorità competenti tutto il tutto. Appena avremo le autorizzazioni, subito dopo ci impegneremo a fare la ristrutturazione definitiva. E allora trasferiamoci un attimo dentro, così ci dice più o meno dove verranno, dove avverranno le modifiche e così in via di massima cercheremo di capire che cosa sta per succedere qui dentro. Noi siamo i primi ad entrare in questo cancello, in questo portone, dopo un anno dalla chiusura. Allora, avviciniamoci un attimo. Qui alle nostre spalle del Fosco c'è il campo A11 in terra battuta, è sempre stato così. Qui migliaia di ragazzi hanno tirato calci ad un pallone, anche Domenico del Fosco. Allora, che cosa succederà su questo campo? Niente, lo ristruttureremo, lo renderemo efficiente al passo coi tempi. Lo faremo in sintetico perché ovviamente le nostre temperature non permettono di fare in maniera diversa. per poterlo usufruire e fruire per tutto l'anno evidentemente. Quindi lo faremo in sintetico, lo faremo a norma con le distanze nuove, lo adegueremo alle norme e alle regole di adesso, né più né meno. Dietro a questo campo ci sono gli spogliatoi, c'era una volta un campo di pallacanestro. Che cosa succederà in quella zona lì? Pensiamo che assolutamente ci possa essere una nuova palestra, fruibile per il resto degli sport, perché non solo calcio, parleremo di pallavolo, di pallacanestro, parleremo di qualsiasi altra cosa che si può fare dentro questa palestra. La faremo senza impegni strutturali, quindi disponibili per questi sport diversi e ovviamente fruibile. Allo stesso tempo la renderemo abile con dei servizi igienici adeguati, a norma e quant'altro, perché è uno dei problemi più importanti che abbiamo visto qui appena abbiamo avuto la disponibilità di questo bene. Poi ci saranno, diciamo prima a microfoni spenti, la costruzione di due campi, uno da calciotto e uno da calcio a cinque? Sì, praticamente dove c'era il campo piccolo di terra battuta, faremo il campo di calcio a otto, spensiamo, speriamo di coprirlo in maniera da renderlo fruibile pure d'inverno e il campo di calcio a cinque che già c'è lo ristrutturiamo, lo ristrutturiamo completamente. Ovviamente lì di fianco ci faremo i servizi, intesi come spogliatoi, spogliatoi arbitri, spogliatoi per le diverse squadre, a nuovi, a norma, adeguati, cose che qui di fatto non ci sono. Infatti non c'è mai stato. E la palestra, qui alle nostre spalle c'è la vecchia palestra. Qui tanti incontri di pallacanestro, pallavolo, pugilato, c'è stato di tutto e di più. Adesso che succederà? Adesso che succede? Che in ogni caso siamo costretti a smantellarla perché c'è l'Eternit, non ci sono gli impianti, non c'è niente che sia norma purtroppo. Quindi siamo costretti a portarla a zero e ristrutturarla e riqualificarla per quelle che sono le caratteristiche nuove. Probabilmente faremo una hall, un'entrata che sia accogliente, una zona accoglienza assolutamente adeguata. Faremo gli uffici che servono poi alla struttura, faremo probabilmente i bagni e i servizi che servono alle persone che immagino potrebbero essere fruenti e interessati di questa struttura. Li renderemo efficaci ed efficienti e pensiamo poi a altre cose ma stiamo vedendo rispetto a quello che poi potrebbe essere rispetto alle autorizzazioni che ci darà il Comune e le indicazioni che qualche altro ente ci darà, l'adegueremo e la metteremo assolutamente nella disponibilità di tutti. Quindi ci sarà per i giovani, strutture per i giovani, ma anche per i meno giovani, per gli anziani, perché qui tanti anziani ci venivano. Anche noi, principalmente per noi. Vabbè, a parte questo, assolutamente per tutti quanti noi, per quelli che poi vogliono seguire a pensare che Cesolino è quello che è stato e quello che sarà nel prossimo futuro. Lo spirito è sempre quello, assolutamente. Cercheremo di portare esclusivamente una voglia di impresa completamente diversa per farlo funzionare e durare nel tempo. Questo sì, indiscutibilmente. A passo coi tempi più che altro. Adesso c'è di mezzo la burocrazia, quindi voi siete in contatto col Comune per cercare di non perdere tempo. Quindi le indicazioni le ricevete mano a mano? Sì, sì. È ovvio che il Comune si sono già dimostrati disponibili. Quindi non c'è nessun tipo di problema. Tant'è vero che abbiamo iniziato con i vari ingegneri a collaborare. È ovvio che ci vuole un po' di tempo perché poi veniamo dalle ferie estive. Ci sono dei tempi che certamente cercheremo di accorciare nel limite del possibile, però poi i tempi corretti e coerenti ci vogliono, indiscutibilmente. Eh sì, perché poi la burocrazia italiana sappiamo che cos'è. Allora, una volta approvato il progetto con le varianti eccetera. Quanto tempo ci vorrà per fare tutti i lavori? Parolone. Noi proviamo in un anno, un anno e mezzo a chiudere tutta l'operazione. Consci che è un'impresa importante. Vedremo quali sono i tempi di autorizzazione e subito dopo potremo cominciare a fare dei pronostici un po' più seri. Certamente noi ci risentiremo e saremo ben lieti insieme a voi di pronosticare, di presentare il progetto prima e poi subito dopo di definitivo e poi subito dopo di dare dei tempi un po' più coerenti. L'interesse nostro è fare le cose subito e velocemente. Poi non è proprio così perché nella vita sappiamo bene che i tempi ci vogliono un po'. Quando sarete pronti all'inaugurazione chiamerete anche i vecchi del Don Orione? Assolutamente sì. L'idea e lo spirito di Don Orione non vogliamo perderlo assolutamente. Tant'è vero che noi abbiamo chiamato questa nuova azienda Nuova Cesolino. Abbiamo messo Nuova Cesolino, forza e coraggio come idea perché ci vuole forza e coraggio per poter fare un investimento del genere in un momento particolare e Nuova Cesolino perché evidentemente volevamo dare un segno diverso, un segno di cambiamento rispetto al passato. Piter Fosco, lei ha attività completamente diverse, si interessa praticamente al settore agricolo. Come le è venuto in mente di diversificare i vostri capitali, i vostri interessi in questa struttura? Perché prima di tutto un imprenditore deve cominciare a guardare, dopo un certo periodo di tempo deve cominciare a guardare alla propria città e allo sviluppo della propria città. Poi io ho tre figli e è ovvio che l'idea di diversificazione è una cosa naturale. Poi delle volte viene meglio e delle volte meno meglio, però l'interesse è quello di dare a disposizione della nostra città qualcosa di diverso e di metterlo al passo con i tempi con un'idea di imprenditorialità sostanzialmente diversa, più che altro. Fra un anno ci possiamo dare appuntamento ancora qui? Speriamo di sì, speriamo pure prima, però realisticamente un anno è qualcosa che ci vuole di più. È convocata per martedì 12 settembre alle ore 11.30 presso i locali del Castello Piccolomini a Celano la conferenza stampa per la presentazione del progetto culturale denominato Castellari e Teatri dei Marsi al Castello di Celano, composto da spettacoli ed eventi di vario genere ma tutti di altissimo livello. lo rende noto è Liana Morgante, assessore alla cultura del Comune di Celano. Alla realizzazione del presigioso evento culturale hanno collaborato l'amministrazione comunale di Celano la DMS Marsica, la Regione Abruzzo, il Polo Museale dell'Abruzzo e il Ministro dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo. Progetto che andremo a presentare ufficialmente nel suggestivo scenario del Castello Piccolomini dice l'assessore Morgante, rappresenta un concreto e valido esempio di come l'arte possa promuovere e valorizzare le risorse artistiche e culturali del nostro territorio. Il lunedì 11 settembre a 10.30 presso la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio, 425 a Pescara, nella Sala Filomena degli Castelli, ex Sala Blu, WWF consegnerà alla Regione e presenterà alla stampa un lavoro di sintesi sugli incendi in Abruzzo dal 1 gennaio al 31 agosto, elaborato dal Presidente del WWF, Abruzzo, Montano, Balter delle Coste. Sono stati presi in considerazione solo i roghi che hanno devastato aree vegetali e sono quelli che hanno interessato almeno un ettaro di territorio. I risultati sono impressionanti e inquietanti. Sarà presente il sottosegretario con delega l'Ambiente e la protezione civile Mario Mazzocca. Un convegno che si è svolto a Chieti, che ha avuto per protagonista la figura di un nostro illustre conterraneo del secolo scorso, si tratta di Silvio Scaldino, un abruzzisi che ha costruito l'Italia. Un uomo venuto da un piccolo paese della provincia di Chieti, che ha lavorato per realizzare l'Italia moderna con il suo pensiero, con la sua attività politica e amministrativa. Lo ha detto il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, intervenendo al convegno Silvio Spaventa, l'Abruzzo che pensa a Italia, che si è svolto nel Teatro Marruccino di Chieti. Al convegno ha partecipato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per Carlo Padua, il Vice Presidente del CSM, Giovanni Legnini. Il Presidente Luciano D'Alfonso ha ripercorso l'impegno di Silvio Spaventa nelle istituzioni e ricostruito il fondamento ideologico che ha animato l'ex Ministro dei Lavori Pubblici, nato nel 1822 a Bomba. Per la prima volta nella storia repubblicana, rivelato il Presidente D'Alfonso, abbiamo ospitato Ministro delle Finanze e non è un caso che ciò avviene in un momento di riflessione sulla figura di Spaventa. La visione liberale di Spaventa, ha sottolineato il Presidente della Giunta regionale, coincide con un nuovo modello di sviluppo che abbiamo inaugurato in Abruzzo, l'investimento sulla ferrovia Pescara-Roma con 1 miliardo di 500 mila euro, le redditi di trasporto sulla dorsalia adriatica, la modernamento della strada Rieti-L'Aquila. Noi lavoreremo affinché l'Abruzzo sia bersaglio di grandi investimenti nazionali e poi ci sono le ZES concepite dal decreto Mezzogiorno, saranno un'occasione di rilancio del territorio. Il Presidente Luciano D'Alfonso ha ricordato anche la figura di Remo Gaspari, siamo una piccola regione ma abbiamo avuto grandi uomini che hanno lavorato nelle istituzioni. Remo Gaspari insieme a Spaventa e Francesco Filomuso Gualfi è stato un politico straordinario che nel 1990 ha ripensato il procedimento amministrativo. Ed è stata inaugurata questa mattina a Silvi la prima scuola media senza zaino d'Abruzzo, ad aprire le porte a questo nuovo modo di insegnare, l'Istituto Compreensivo Pascoli che già dall'anno scorso applica il metodo alla scuola dell'infanzia in due plessi della primaria. La cerimonia che si è aperta con la consegna delle borse ha visto la partecipazione degli allievi, del dirigente scolastico e di dirigenti provenienti da altri istituti, degli insegnanti, dei genitori, dei ragazzi, dell'assessore regionale alle politiche sociali, Marinella Sclocco. Abbiamo creduto in una scuola che fa le regole insieme agli alunni e ha spiegato il dirigente dell'Istituto Compreensivo, Marisela Fortunato, il cui motto è aiutami a fare da solo e qui gli alunni possono diventare custodi del proprio ambiente, ma con la fortuna di trovare tutto a scuola. Si tratta di una metodologia, ha precisato l'affortunato, basata sui principi della responsabilità, dell'autonomia della comunità che sviluppa dinamiche in cui gli alunni vengono educati al senso civico e alla condivisione, poiché le cose sono di tutti. Mi piacerebbe, ha commentato invece l'assessore delle politiche sociali, che questa buona prassi e questo modo speciale di fare scuola, di stimolare e di incuriosire i ragazzi, diventi una metodologia da riprendere e diffondere. In Abruzzo ha commentato ancora l'assessore Sclocco, esistono altre tre scuole, senza zaino. La primaria di Attessa, quella di Casalbordino e quella dell'Istituto Comprensivo di Chieti. A pochi giorni dalla data fissata dal presidente Luciano D'Alfonso, il 13 settembre, per una riunione in regione finalizzata a valutare la possibilità di chiedere una deroga al divieto previsto dalla legge del rimboschimento immediato delle aree devastate dal fuoco, WWF ribadisce la propria posizione. Rimboschimento, semmai sciaguratamente deciso, rappresenterebbe un gravissimo errore da ogni punto di vista. Primo errore è stato già quello di parlarne, lo ha fatto l'assessore Andrea Girosolimo e qualche giorno dopo il presidente D'Alfonso a rughe in corso perché annunciare una simile intenzione avrebbe potuto indurre i piromani a intensificare la propria azione. Il secondo è quello di escludere il Parco Nazionale della Magliella dal tavolo del 13 settembre. Un errore ancora più grande sarebbe quello di dare seguito a quegli incauti annunci, sia dal punto di vista naturalistico che da quello economico. Ci sarebbe infatti un enorme spreco di risorse a danno e non in favore della montagna. Come il WWF ha già avuto modo di scrivere in un comunicato del 28 agosto scorso, un bosco artificiale si riconosce immediatamente per avere alberi tutti uguali, della stessa altezza e più o meno dalla stessa distanza l'uno dall'altro. Un ambiente poco attrattivo, monotono e penalizzante dal punto di vista dello sviluppo della biodiversità, del tutto improprio in un'area naturalistica di pregio. La ripresa naturale della vegetazione, anche se richiede tempi più lunghi, ha tutt'altro aspetto naturale, appunto, e garantisce attraverso un'accentuata biodiversità vegetale la presenza di numerose diversificate specie animali. Analogo alla presa di posizione assunta dal Consiglio Comunale di Sulmona, la Sise Civica ha votato all'unanimità un ordine del giorno nel quale si boccia chiaramente l'ipotesi del rimboschimento e si sostiene invece che bisogna favorire un naturale fisiologico ripristino della vita del morrone, anche non solo al fine di evitare speculazioni di qualsiasi natura. D'Alfonso dimostra di avere a cuore ciò che conta per la stragrande maggioranza degli abruzzesi, conclude il WWF, e non gli interessi economici di pochi, dannosi peraltro per l'ambiente, cancellando dalla propria agenda questa idea sbagliata. Ed è stata approvata dalla Giunta regionale dell'Abruzzo la delibera che dal via ai concorsi regione per 50 unità di categoria D e 12 posti da dirigente. Con il provvedimento l'esecutivo ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per le annualità 2018-2019 e la dotazione organica della Giunta regionale, così come rideterminata per effetto del delibere e altresì autorizzato per l'anno in corso a condizione del rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo, il piano assunzionale. Una percentuale di posti nei limiti della normativa vigente sarà riservata a dipendenti di categoria al fine di valorizzare le professionalità interne. Le procedure verranno avviate immediatamente, ha spiegato il direttore del Dipartimento Risorse Fabrizio Bernardini, prima fra tutte quella riguardante la mobilità esterna. I bandi saranno redatti con celerità per la ristrutturazione di prove altamente selettive che consentano di reclutare la professionalità migliore. Contiamo di sottoscrivere i contratti con i vincitori entro l'estate 2018. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, apriamo con la Serie D, giunta la seconda giornata. Per l'Avezzano ci sarà la prima trasferta e anche il primo derby a carattere regionale. Domani i bianco-verdi saranno ospiti della Vastese in un match che vedrà in campo diversi ex. Tra i marsicani giocherà il Vastese Damiano Menna, che proprio con i bianco-rossi aveva iniziato la preparazione estiva, mentre dall'altra parte ci sarà la Mi Bitalie, il colore gambiano fino allo scorso anno alla corte del presidente Paris. È non escluso che i due possano venire a trovarsi proprio uno di fronte all'altro, considerato che Bitalie è un attaccante esterno e che Menna dovrebbe ricoprire ruolo di difensore di fascia. Nella Vizzano dovrebbe esordire il difensore Dani Verruschi, che andrà a far coppia centralmente con Sbardella, mentre a sinistra sarà confermato il giovane Scutti. In avanti Federico Giampaolo sta cercando di recuperare al medio il brasiliano Dos Santos, ancora indietro nella condizione fisica, per cui pare probabile che insieme al polacco Branichi possa giocare il giovane Guerra. In eccellenza, dopo l'ottimo esordio nella gara inaugurale del torneo, giocherà in casa il paterno, battuto seccamente in Coppa Italia dai cugini del Capistrello. La squadra di Tonino Torti è riduce dal successo esterno sul campo del Giulianova, ma è ancora le presa con un organico in via di definizione, quindi con problemi legati alla condizione fisica e all'intesa tra i vari riparti. Settimana sono arrivati altri giocatori in casa nera azzurra e azzardare una formazione è quanto di più difficile ci sia al momento. L'avversario della seconda di campionato si chiama Montesilvano, mencitore otto giorni fa del Sambucetto. Chi invece appare in perfetta salute è il capistrello di Fabio Giodice, reduce da due squillanti vittorie a spese dello spoltore in campionato e dallo stesso paterno in Coppa. Rovetani che sembrano aver trovato subito la forma migliore, grazie all'apporto dei due argentini Bolzana e Leccese, ma grazie anche al ritrovato Mercodiano che finalmente riesce ad esprimersi secondo potenzialità che tutti gli riconoscevano, ma ben pochi erano riusciti finora ad apprezzare. In Granata domani saranno ospiti dell'Angolana che nella prima partita era riuscita a pareggiare sul campo del Midianico. Pronosti coperto ad ogni soluzione, ma poi ci auguriamo ovviamente che De Maiz e compagni possano tornare a casa con l'intero bottino. In promozione invece Luca ospiterà il Piano Lente, mentre il Puccetta viaggerà alla volta di Teramo per affrontare la Virtus. E questa era l'ultima notizia, quindi l'informazione termina qui. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduetv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Vezzano, dove è possibile rivedere anche vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso negli ultimi anni. Dunque grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti.